Se posso chiudere prima del Presidente alcuni appunti che mi sono venuti in mente lungo tutta la giornata di oggi. Uno che nonostante quello che è stato detto da Palau d'Arpizio riguardo dell'andamento dei department store nei riguardi dei retail stores nel corso dell'anno e che effettivamente avendo poi tra l'altro molti department store, gli honorary members che si sono aggiunti al gruppo nostro oggi è il credere che loro continueranno a essere un'arma estremamente importante per la distribuzione dei nostri beni, dei beni di lusso in Italia. Probabilmente dobbiamo imparare un po' in funzione di quello che è questo nuovo consumatore che ha delle richieste sempre più esigenti che quindi richiede personalizzazione, probabilmente i department store dovranno imparare in un certo modo qualche cosa dal retail come dall'altra parte però il retail credo debba continuare a vedere nel department store qualcosa da cui imparare nel generare traffico, nel generare attenzione però appunto i department store probabilmente nell'attenzione al consumatore potranno imparare dalle nostre esperienze. L'altro discorso che mi è venuto molto in mente è appunto l'importanza di avere questi nostri nuovi soci assieme a quelli che già avevamo per cercare di fare delle cose nuove insieme. Il discorso della fondazione Alta Gamma non è forse tanto quello di farsi conoscere come tale ma quello di creare al nostro interno tra fornitori e clienti delle tali interconnessioni che possono servire proprio per capire come poi insieme interpretare meglio i desideri del consumatore per cui il conoscersi meglio, lo stimolarci a vicenda credo che sia probabilmente poi il cuore di questa cerimonia, di questa decisione di avere un nuovo gruppo di honorary members che si sono aggiunti e che bisogna dare atto quando Leonardo effettivamente lanciò l'idea di qualche anno fa di lanciare questa nuova iniziativa bisogna dargli atto che indubbiamente era lungimirante e oggi più che mai è molto utile ma ci deve essere lo stimolo per dire come insieme possiamo imparare di più uno dall'altro. Grazie Paolo e non mi resta che ringraziare tutti voi per essere stati qua con noi oggi per aver condiviso un lavoro importante che è stato fatto e qui l'apprezzamento al dottor Branchini allo staff di Alta Gamma, alla Bain, a tutti coloro che hanno collaborato anche dall'esterno a rendere sempre più questi dati affidabili, credibili, globali e il più possibile forward looking. Quindi complimenti e grazie, recepisco la positività di questo allargamento dell'International Honorary Council e i messaggi che arrivavano da Nasir ma che sono già sentiti a cuore e mi farò portavoce presso la Fondazione Alta Gamma per trovare nuove iniziative, nuovi sistemi per farlo diventare sempre più sistema e lo dico sempre nei fatti e non nelle parole perché questo è un valore straordinario che dobbiamo enfatizzare e utilizzare sempre di più nel futuro. Saluto tutti nuovamente anche da parte del Presidente Versace e a presto e in bocca al lupo. Grazie. Grazie.